Benvenuti a una nuova puntata di Dietro la notizia, la psicosi da coronavirus sarà al centro della puntata di oggi ma soprattutto vogliamo fare il punto sulla situazione. Vogliamo anche stemberare un po' la paura parlando di una iniziativa simpatica e originale che è stata fatta da un gruppo di giovani che vivono al nord, che sono originali della provincia di Caserta. Tutto questo subito dopo la sigla. Sigla. Bene, torniamo in studio a presentarvi gli ospiti. Con noi il sindaco di Piedimonte Matese, che è anche medico, il dottor Luigi Di Lorenzo. Buongiorno. Buongiorno. La psicologa e la dottorissa Nicole Cusano. Buongiorno. Buongiorno. Ebbene, noi volevamo partire citando questa simpatica iniziativa di un gruppo di ragazzi che si trova al nord. Che cosa hanno fatto? Hanno messo su un video che in qualche modo cerca di esorcizzare un po' la paura di tutti quanti, perché la puntata di oggi, lo dicevamo, era cercare di un po' di calmare gli animi, anche se i numeri ci sono e parlano chiari. Io, intanto, se la regia è pronta, manderei il video. Ciao ragazzi, siamo un gruppo di insegnanti, militari, finanzieri, terroni. Lavoriamo nelle Marche, in Piemonte, in Lombardia, in Emilia Romagna e siamo rimasti. L'abbiamo fatto per amore nostro e per amore del nostro paese. Proveniamo da un paesino molto piccolo della provincia di Caserta. Si chiama Liberi. Liberi è un borgo come ce ne sono tanti nel nostro meraviglioso sud e la diffusione del coronavirus in questi borghi così piccoli, abitati soprattutto da anziani, sarebbe una catastrofe per noi e per tutti. Ecco perché abbiamo deciso di invitarvi a restare e di spiegarvi i nostri motivi per rimanere. Io sono Anna e di motivi per rimanere ne ho due. Il primo è perché sono un insegnante e i miei ragazzi hanno bisogno di me qua, che esempio darei oggi se scappassi. L'altro motivo è che mi fido della mia piccola comunità, mi fido di Liberi e so che se la mia famiglia dovesse avere bisogno, basterà chiedere al vicino. Dunque io rimango e ve lo chiedo per favore, start of the log. Buongiorno ragazzi, sono Giacomo Bencivenga, originario del sud, sono un militare che attualmente mi trovo qui in Piemonte per un'operazione con le forze dell'ordine. E niente, vorrei sensibilizzare tutti quanti a stare nelle proprie case. Nulla, start of the log, start of the log. Salve, sono Natascia, sono un'insegnante di scuola primaria e vivo ad Ancona. L'unico modo per fermare il virus è limitare i contatti sociali. So che in questo momento avete paura e so benissimo che noi viviamo di relazioni, ma se ora vi spostate, il rischio è che queste relazioni potreste non viverle più. Perché? Perché siete dei potenziali portatori del virus. E mentre voi ne uscirete indenni, i vostri nonni, i vostri genitori o comunque qualsiasi altra persona di una certa età, no. Quindi spero che abbiate il buon senso di riflettere sulle vostre azioni. Start of the log. Ciao a tutti, sono Massimiliano, lavoro a Como. E mi raccomando, non cercate di scendere giù perché così infestiamo ancora di più tutta l'Italia e non si riuscirà mai a debellare questo virus. Mi raccomando, state per l'oca. Ciao amici, sono la maestralina e vivo a Castelfidardo. A tutti i colleghi ed amici del sud che sono emigrati al nord come me per lavoro, rivolgo un semplice e breve appello. Rimanete a casa. La vita sta loca. Avete capito perché è così importante rimanere? Ad agosto vi invitiamo tutti a liberi. Mammo, per favore, start of the log. Allora, abbiamo appena visto il video che adesso commenteremo e proviamo a sentire telefonicamente a chi questo video lo ha voluto creare, all'ideologa di questa iniziativa simpaticissima che apparentemente sembra molto banale ma alla fine non lo è. Pronto? Buongiorno Anna. Buongiorno. Senti, noi abbiamo appena visto il video che voi avete organizzato. Innanzitutto volevo chiedere come è nata l'idea perché apparentemente sembra un video diciamo banale però ha dei grossi contenuti secondo me e molto utile diciamo alla collettività perché tu sai benissimo che in giro ormai c'è una psicosi per quanto riguarda questa vicenda. Ma sì, è nato più che altro da un moto di rabbia che abbiamo avuto un po' tutti nel vedere le immagini di quest'esodo dal nord verso il sud e abbiamo deciso di trasformare questa rabbia in qualcosa di più costruttivo e anche simpatico insomma che potesse arrivare alle persone e devo dire che ci siamo messi in contatto tra di noi. Innanzitutto tu dove ti trovi? Con quale città sto parlando adesso? Allora io sono a Mirandola di Modena quindi mi trovo in Emilia Romagna e quindi noi stiamo, come dire, stiamo vivendo le restrizioni già da un po' di tempo. Perché voi siete partiti prima insomma. Cerchiamo di ridere un po' su questa vicenda. Eh sì, l'Emilia Romagna insomma era partita un po' in sordina poi ho visto che invece si è rimessa in moto e quindi nulla, abbiamo voluto trasformare questa rabbia in qualcosa di costruttivo, simpatico. Nino, Natascia, Alina, Massimiliano. È giusto citarli tutti? Sì, sì, assolutamente. Hanno accolto volentieri l'invito. Non pensavamo sinceramente che diventasse insomma così... Importante. Esatto, però siamo contenti insomma. Abbiamo avuto anche diversi contatti da Calabresi, da Lucani insomma che ci hanno ringraziato per questo messaggio. Sicuramente è stato molto utile a tutti, sicuramente. Bene, siamo contenti e sì, ribadiamo con convinzione quello che abbiamo detto. Oggi le condizioni sono un po' diverse cioè ci sono restrizioni per tutti però sì, dobbiamo far valere il buon senso. Certo, certo. Riscopriamo un po' la vita in casa e se siamo bravi 15 giorni, 20 giorni e direi che poi pian pianino speriamo si possa tornare alla normalità. Bene, certo. Io intanto ti ringrazio e speriamo di vederci giù qui a Caserta magari in agosto direi. In agosto, sì. In un momento più tranquillo, più sicuro per tutti. Esatto, esatto. Grazie ancora e saluti a tutti gli altri componenti. Grazie mille. Buongiorno, buongiorno. Bene, allora la prima domanda la volevo rivolgere a lei. Abbiamo visto che c'è tanta paura l'abbiamo già detto e ripetuto stamattina. Secondo lei quanto sta giocando questo sull'intera situazione? A parte, io ripeto sempre la stessa cosa a parte i numeri, ci sono purtroppo dei numeri che parlano chiaro però voglio dire la parte, l'aspetto psicologico è stato determinante. Assolutamente. Non si è forse compreso all'inizio la differenza tra la prevenzione e la precauzione. Cioè si è dato molto spazio alla precauzione dove incideva tantissimo la responsabilità dei cittadini che devo dire soprattutto da noi un po' per formazione, carattere come dire, si è un po' sottovalutata la cosa. E qualche messaggio sbagliato forse è stato dato anche dalle istituzioni. Quindi si è pensato subito agli aspetti economici e a ridurre l'impatto di quello che purtroppo poi sarà la ricaduta economica. Per cui anche qualche messaggio da restituzioni nazionali è stato passato in maniera errata, secondo me. Seno invece che cosa pensa di questo ultimo provvedimento di stamattina? E questo è un passaggio netto tra un'imposizione di precauzione data su basi epidemiologici e scientifiche. Per cui la task force su dati reali quindi sull'indice di diffusione della pericolosità proiettati a 3-4 mesi applicano delle norme che ci impongono delle precauzioni cioè delle prevenzioni. Invece la precauzione è quella demandata alle istituzioni, al cittadino è quello che è venuto a mancare e che al momento non c'è più delegata. Per cui gioco forza c'è la necessità delle imposizioni che dobbiamo tutti rispettare. Assolutamente. Dottoressa, invece sotto l'aspetto psicologico che cosa possiamo fare? Come si può gestire innanzitutto questa paura? Allora, diciamo che la paura è sicuramente l'emozione più condivisa in questo momento tra i nostri cittadini. La paura è l'emozione che sicuramente è congrua con quello che sta succedendo. considerando anche la superesposizione mediatica a cui siamo esposti chiaramente abbiamo paura per la nostra sopravvivenza per i nostri cari per la nostra famiglia per i reparti in cui lavoriamo e per quella che può essere la conseguenza di questo virus che si va espandendo all'interno del nostro paese. La lotta più antica alla più arcaica è quella della sopravvivenza e quindi chiaramente ci troviamo a combattere affinché possiamo preservare la nostra vita da questo potenziale contagio. Allo stesso modo abbiamo potuto osservare come molte persone sono scappate sono fuggite dalle zone rosse del nord Italia per raggiungere le proprie famiglie il che poteva essere comprensibile dal punto di vista psicologico perché la fuga nel momento in cui si percepisce il pericolo sembra essere il meccanismo di difesa più attivato anche se poi la conseguenza è quella che sulla scorta dell'istinto possiamo prendere decisioni errate come anche quello che è successo questa notte dopo l'ultimo decreto sono stati presi d'assalto tutti i supermercati H24 nella paura ingiustificata di rimanere senza viveri cosa che sicuramente non avverrà come ha spiegato anche il nostro presidente del consiglio i supermercati resteranno aperti e noi avremo la possibilità di poter accedere ai servizi sul territorio per quanto riguarda almeno l'approvvigionamento dei viveri di prima necessità ma come si potrebbe gestire ecco questa è la domanda che vorrei capire appunto sotto l'aspetto psicologico sì allora sicuramente il mio consiglio è quello di non esporci in maniera eccessiva alle notizie mediatiche dobbiamo dedicare magari due momenti della giornata a diciamo a cercare di ascoltare quelle che sono le notizie e solo dalle fonti più attendibili quindi seguire magari solamente due telegiornali al giorno perché come dicevo la sovraesposizione mediatica può in qualche modo amplificare il vissuto di paura perché come se noi tutti i giorni fossimo esposti a una notizia relativa ai numeri dei morti dei receduti dei ricoverati in terapia intensiva il che non fa altro che aumentare dentro di noi la paura di quello che sta succedendo oltre a questo il consiglio è quello di in un momento in cui siamo costretti a rimanere nelle nostre case abbiamo anche la possibilità di stare insieme con la famiglia in una società fluida in cui non abbiamo mai più il tempo di dedicarci agli affetti adesso le scuole sono chiuse il lavoro molte attività commerciali sono chiuse siamo di nuovo tutti insieme a casa possiamo dedicarci alla famiglia un consiglio importante ai genitori volevo dare nel trasmettere ai bambini rassicurare i bambini in merito a ciò che sta accadendo perché un volto di un genitore spaventato diventa un volto spaventante quindi è chiaro che dobbiamo utilizzare una modalità quanto più rassicurante possibile per i nostri figli e dedicare del tempo a loro quindi in questo modo abbiamo la possibilità anche di ritrovarci mi dicevi Lorenzo c'è una battuta come al solito in cito giusto per strammatizzare il fatto di stare insieme in famiglia qualcuno ha detto mi sono reso conto che siete delle brave persone rivolgendosi alla moglie ci siamo ritrovati in qualche modo la situazione invece è a piedi monte come al momento a punto di vista sanitario è tenuta sotto controllo con grande diciamo professionalità dal dottore Borruso dall'ASA dalla prevenzione anzi a cui va ringraziamento a nome della città perché sta in servizio praticamente 24 su 24 da giorni i dati sono quelli noti c'è stato quest'unico caso positivo che tra l'altro adesso è in sotto osservazione a casa a domicilio presso un altro comune a casa ha scelto di stare dai genitori presso un altro comune un comune diverso dal nostro sì che è stata ovviamente una corsa una rincorsa a tracciare tutte le persone che avevano contatto con questa persona sono state invitati tutti a un isolamento volontario quindi questa è la situazione casi nuovi non ce ne sono ci sono invece nuove disposizioni a livello regionale? le nuove sono quelle che abbiamo sentito ieri insomma non sappiamo se ci sarà una chiusura ulteriore rispetto agli orari questo poi è una cosa penso sia io penso che ci sia sicuramente c'è un monitoraggio del studio superiore sanitario regione per regione relativamente alla diffusione si parlava di una possibilità di contagio 1 a 4 cioè che ogni infetto potesse ogni diciamo contagiato potesse contagiarne 4 adesso ieri sentivo di 1 a 2 5 quindi probabilmente quello che è successo in Cina e in Nord Corea cioè la riduzione dei contatti sta avendo successo per cui così come in Nord se siamo rigi alla rispettosi delle decisioni sicuramente ci sarà un trend di riduzione trend che mi dicono che sia purtroppo in aumento per i prossimi 2-3 settimane ecco perché c'è stata questa chiusura adesso si prevedeva qualche settimana fa qualche virologo lo prevedeva già quindi anche il passaggio verso il sud quindi l'aumento di questi però le previsioni sono ottimistiche dopo il 3 di aprile devo dire una cosa ieri noi abbiamo fatto un servizio con Caserta Sera su Piedimonte ma anche in zone vicine ci siamo cercati di informare abbiamo visto che Piedimonte era proprio completamente deserta quindi questo sta a significare che la gente ha cominciato anche a capire che meno si esce e meglio è dunque diciamo si è recepito quello che è poi la gravità del momento ecco perché dopo qualche ora di silenzio in cui si era scelto di non dire nulla rispetto al caso la direzione provinciale dell'ASL mi ha invitato a raccordarmi con l'Anci regionale della persona del sindaco Carlo Marino e che mi ha dato diciamo il là a fare quel comunicato quel video e siamo stati invitati a fare un video piuttosto che una cosa scritta che potrebbe un post che è un comunicato che potesse essere insomma osservato perché ritenuto il video più da impatto insomma per far capire che quel caso doveva chiederci maggiorse verità nei comportamenti infatti l'effetto poi si è avuto per cui si è scelto ecco il motivo di quel comunicato di rendere pubblico il caso diciamo siamo proprio verso la fine dottoressa un messaggio sotto l'aspetto psicologico che possiamo dare ai cittadini e poi magari sotto il profilo istituzionale con il sindaco io vorrei dire che approfittando di quello che sta succedendo di ciò che stiamo vivendo in questo momento così drammatico per la nostra nazione è anche il caso di fare una riflessione in un momento in cui eravamo così attenti alla problematica climatica ci ritroviamo e questo virus non ha fatto altro che diminuire l'impatto dell'inquinamento ambientale sul clima in un momento in cui lottavamo per la discriminazione ci siamo ritrovati ad essere noi discriminati a vivere in prima persona nonostante veniamo dall'occidente e viaggiamo in prima classe ci siamo ritrovati ad essere discriminati a non poter uscire dal nostro territorio in un momento in cui tutti siamo impegnati a coltivare il nostro orticello ci dobbiamo rendere conto che ogni nostro comportamento può avere una conseguenza sulla vita dell'altro e il comportamento dell'altro ha una conseguenza sulla nostra di esistenza quindi siamo necessariamente portati a dover considerare che ogni nostro comportamento deve essere attento non solo per la nostra ma anche per l'altrui salute e quindi l'adesione rigida a quelle che sono le disposizioni nazionali da parte di tutti e smetterla di cercare il colpevole l'untore dare colpa trovare necessariamente in questa caccia alle streghe di chi è la colpa di tutto ciò ma piuttosto riflettere su questo disequilibrio della lotta cosmica che stiamo vivendo e del fatto che questo virus magari ci sta dando la possibilità anche di riflettere su quelli che sono gli affetti le distanze che c'erano state prima della possibilità di ritrovarci di nuovo insieme adesso non ci possiamo abbracciare non ci possiamo baciare non ci possiamo dare la mano cose che magari fino a ieri avevamo dato scontate e che invece oggi forse mancano anche tu prima Lorenza non ci siamo stretti la mano però ti è venuto quasi naturale doverti esporre e questo fa sì che noi ci rendiamo conto che i social ci avevano posto delle distanze e che in questo momento che non possiamo più abbracciarci possiamo porci maggiore attenzione invito comunque tutti ad essere maggiormente attenti a se stessi perché ripeto possiamo anche compromettere la vita degli altri a rimanere a casa e a rispettare quelle che sono le normative e allo stesso tempo però cercare anche dei momenti in cui possiamo dedicarci a noi stessi dentro casa in modo da non aumentare i livelli di stress a cui siamo esposti perché l'isolamento inevitabilmente è inumano siamo degli animali sociali e meno delle giornali e meno delle giornali Sindaco chiudiamo io voglio ribadire l'invito a rispettare le norme perché non sono un tentativo ma sono delle scelte fatte su dei dati epidemiologici tesi a quindi ciascun comportamento è stato dettato e quindi normato è teso a ridurre la diffusione del contagio quindi è fatto da persone che hanno una preparazione hanno dei dati in mano che noi non abbiamo per cui non diffondere ecco né panico né notizie false sui social che sono inondati ovviamente sia di messaggi che di maggior presenza perché è legato al fatto che siamo chiusi in casa quindi addirittura si era diffuso alla voce di un terremoto è assolutamente per cui atteniamoci a quanto ci è stato suggerito perché è fatto su dati scientifici e epidemiologici bene la nostra trasmissione termina qui grazie agli ospiti alla regia e tutti voi che ci seguite da casa sempre più numerosi grazie alla prossima sigla grazie a tutti